Il CLN Cusmo Lise ci mette il cuore ma alza a bandiera bianca contro le Cositi nel recupero della terza giornata di campionato. In un palaunimo al gremito in ogni ordine di posto, finisce 8-3 per la squadra di Angelini, che continua così la sua rincorsa alla vetta della classifica. Nel primo tempo il vantaggio ospite arriva grazie all'Holo Suazzo, che dalla destra, con la sua classica giocata, salta il marcatore e deposita l'angolino. Il raddoppio Orange nasce da un'azione personale di Pedrigno, che mette al centro, dove Gastaldo anticipa in scivolata Triglia. La risposta del Cus è in una bellissima giocata di Porcari, che viene atterrato in area da Suazzo. È calcio di rigore. Sul dischetto va Barichello, che incastona la palla sotto al 7 per l'1-2. La rimonta è completata poco più tardi, sempre grazie al 24, che da posizione defilata firma il 2-2. Prima del riposo, gli ospiti tornano avanti. Romano scambia con Lucaianne e mette la palla all'angolino. Nella ripresa, i rosso-blu, senza gli infortunati di Stefano e Triglia, incassano la quarta rete. Suazzo serve Lucaianne, che non perdona. Poi il Cus opta per il gioco a 5 e da una rimessa laterale inizialmente assegnata ai padroni di casa e poi concessa ai laziali, lo Cicero serve velocemente Romano, che a porta a vuota fa 5-2 cositi. La bella accorcia le distanze, ma nel finale di gara la selezione di Angelini allunga. Gastaldo guida la ripartenza orange e Fusari firma il 6-3. Lo stesso numero 7 trova in sequenza altri...